A differenza dei censimenti precedenti che venivano svolti ogni dieci anni su tutta la popolazione, adesso i censimenti si fanno su dei campioni di comune e su dei campioni di popolazione. Alcuni comuni vengono intervistati ogni anno, alcuni comuni ruotano di anno in anno. Ciò ha permesso all'Istituto di alleggerire moltissimo il carico e il fastidio statistico sulla popolazione, così come sulla rete di intervistatori comunali. Questo censimento permanente, come tutti gli altri censimenti, permette uno sguardo anche di lunga durata. Abbiamo effettuato anche dei controlli e dei confronti con il censimento del 1951. La fotografia che ne emerge, soprattutto in relazione all'età della popolazione, è molto, molto diversa. Abbiamo guadagnato 14 anni di vita media in 70 anni della vita del Paese, ma i rapporti tra le generazioni si sono invertiti. La piramide dell'età è completamente rovesciata. Nel 1951 avevamo poco meno di un anziano per ogni bambino con meno di sei anni. Attualmente abbiamo cinque anziani per ogni bambino di sei anni.